Adesso passiamo la parola a Paolo Bellino, dal 2018 amministratore delegato di RCS Sport, vanta una grande esperienza nella gestione manageriale di grandi eventi. Ecco, voi come gruppo Cairo e come RCS Sport non curate soltanto la parte stampa dei grandi eventi, ma ovviamente anche la parte della gestione, dell'organizzazione. Tra le più importanti c'è sicuramente il Giro d'Italia. Il Giro d'Italia che vanta anche una importante collaborazione con Anci, in cui le città e i comuni diventano protagonisti e addirittura la gara viene trasmessa in 200 paesi nel mondo, quindi c'è anche una grande opportunità. Tra l'altro credo che il Giro d'Italia passi anche per Montecatini. Sì, confermo. Buongiorno a tutti, intanto complimenti perché sono molto emozionato e curioso di partecipare a questo evento, ero molto emozionato e curioso, finalmente si parla di Under 35. Io non faccio più parte di Under 35 da tanto tempo, ma trovare uno spirito dei giovani che si impegnano per il territorio è un elemento molto importante e molto sostanziale per il nostro paese. Parto dal titolo, l'Italia più bella. Noi attraversiamo 500 comuni con il Giro d'Italia, più o meno. Non è una mia idea, ma un po' di tempo fa un collega coniò una frase, una specie di claim per il Giro d'Italia. La corsa più dura del mondo nel paese più bello. L'Italia è effettivamente il paese più bello. E noi la raccontiamo non solo attraverso la partenza e l'arrivo, ma attraversando il territorio. Quindi tra la partenza e l'arrivo del Giro d'Italia c'è l'Italia. Sono 3500 chilometri. Quindi raccontiamo tutto il nostro paese. Lo raccontiamo attraverso una corsa sportiva. Quindi una corsa sportiva ad altissimo livello. È il secondo evento sportivo nel ciclismo del mondo. e lo facciamo con la televisione. Ma raccontiamo la corsa e il vantaggio di avere il Giro d'Italia è che le riprese televisive sono con gli elicotteri. Quindi raccontano il territorio e l'eccellenza del nostro territorio. Raccontano le bellezze culturali, l'enogastronomia. Raccontiamo la biodiversità del nostro paese. Raccontiamo di un paese incredibile. Quest'anno, anche con l'amicizia che ci lega con l'onorevole Pella, o sindaco Pella, però, questa duplice veste, abbiamo fatto un progetto che è un progetto legato con Anci per raccontare il territorio e per raccontare dei progetti specifici legati ai giovani. Giovani e non solo, c'è giovani e ambiente. C'è tutto un tema su cui stiamo lavorando. Perché abbiamo fatto questo ragionamento? Abbiamo fatto questo ragionamento perché crediamo che ci siano delle grandi opportunità attraverso lo sport e attraverso la cultura dello sport, che non vuol dire solo pratica sportiva, che non vuol dire solo impianti sportivi, ma vuol dire anche la possibilità, attraverso i grandi eventi e attraverso il turismo sportivo, di avere delle opportunità importanti per i comuni e delle ricadute economiche molto importanti. Lo facciamo attraverso un progetto che facciamo con il Giro Next Gen, che è il Giro del Under 23, quindi definito proprio per una categoria specifica di atleti che sono gli atleti che poi diventeranno i campioni del futuro. Lo facciamo attraverso il Giro E con un racconto e con tantissimi simposi e riunioni nei vari comuni dove raccontiamo di sostenibilità, di opportunità per i giovani, di best practice. Perché credo che sia molto importante anche per gli amministratori locali ragionare sul fatto che ci sono delle opportunità enormi se guardiamo fuori dal nostro ombelico, cioè se ci guardiamo e cerchiamo di capire che cosa fanno gli altri e quali possono essere le opportunità di miglioramento e di crescita. Perché ci sono tante cose che si possono imparare guardando fuori dalla propria cinta adaziaria. E questo cerchiamo di portare in qualche modo questo seme in giro per tutta l'Italia. Abbiamo dei contest e dei workshop come dicevo prima e lavoriamo anche molto sulla promozione della carta giovani. Aggiungo ancora un pezzo perché ne abbiamo parlato prima col Ministro e credo che possa essere anche un elemento sostanziale su cui noi possiamo metterci a disposizione che è il servizio civile. Cioè dare l'opportunità. Lavoriamo per un evento che è un evento internazionale. abbiamo a che fare con tante nazioni e tanti paesi. Potremmo dare l'opportunità ai giovani di fare delle attività legate nei propri comuni o in altre situazioni per lavorare al giro d'Italia. Quindi fare anche della pratica e imparare un mestiere legato all'organizzazione di un evento sportivo. soprattutto legato ai comitati di tappa che abbiamo in ogni singolo comune. Bellissimo progetto, una grande opportunità anche per i giovani ed è bello vedere un connubio tra diversi settori della vita sociale. Lo sport che si coniuga ovviamente con tutto. Dal turismo alla bellezza della nostra Italia che non finiremo mai di sottolineare. Grazie direttore Bellino. Grazie mille.